Con questo tutorial vediamo degli esempi svolti sull'identità di Besou. Allora innanzitutto vediamo cosa dice l'identità di Besou. Siano A e B due numeri interi e sia D il loro massimo comundivisore. Allora esistono due numeri x e y interi per cui si ha questa relazione. A per x più b per y è uguale a D. Vediamo come poter andare a determinare l'identità di Besou in questo esempio. Abbiamo i numeri 160 e 64, quindi vuol dire che saranno i nostri A e B. Dobbiamo andare a determinare prima di tutto D e quindi devo andare a fare il massimo comundivisore tra 160 e 64. Vado a determinare il massimo comundivisore utilizzando l'algoritmo di Euclide e allora vado a fare 160 diviso 64 ed ottengo quoziente 2 e il resto 32. Poi vado avanti e faccio 64 diviso 32. 64 diviso 32 è 2 e il resto è 0. Allora significa che il massimo comundivisore sarà 32 e quindi scrivo uguale a 32. A questo punto devo determinare x e y in modo tale che 160 per x più 64 per y deve essere uguale a 32. Riparto da queste divisioni e le scrivo in riga e quindi vado a scrivere che 160 è uguale a 2 per 64 più 32. E poi 64 sarà uguale a 2 per 32 più 0 e quindi scrivo 64 uguale a 2 per 32 più 0. Per determinare l'identità di Besou la riga dove il resto vale 0 la elimino e quello che mi resta è questo qui. Ora esplicito il resto che è 32 e quindi vado a scrivere che 32 è uguale a 160 meno 2 per 64. Questo 160 adesso lo scrivo come 1 per 160 e quindi posso andare a scrivere che 32 è uguale a 1 per 160 meno 2 per 64. In questa maniera sono riuscito a determinare i numeri x e y che nel nostro caso saranno 1 e meno 2. Provare per credere che se vado a fare 1 per 160 meno 2 per 64 ottengo proprio 32. Ricordo che 32 era il massimo comune divisore tra 160 e 64. Vediamo quest'altro esempio. Allora voglio andare a determinare l'identità di Besou dei numeri 530 e 52. La prima cosa che devo andare a fare è andare a calcolare il massimo comune divisore tra 530 e 52. Applico l'algoritmo di Euclide e vado a fare le divisioni. 530 diviso 52 ottengo come quoziente 10 e il resto 10. Poi 52 diviso 10 ottengo quoziente 5 e il resto 2. Vado avanti. 10 diviso 2 ottengo quoziente 5 e il resto 0. Siccome che qui ho ottenuto il resto 0 vuol dire che 2 è il massimo comune divisore tra 530 e 52. A questo punto devo andare a determinare i numeri x e y che verificano l'identità di Besou. Devo ripartire da queste divisioni e le vado a scrivere in riga, ossia 530 è uguale a 10 per 52 più 10, 52 è uguale a 5 per 10 più 2 ed infine 10 come 5 per 2 più 0. Ora elimino l'ultima riga che contiene il resto 0. Quello che mi resta sono queste due identità, 1 e 2. E adesso vado a esplicitare i due resti, cioè 10 e 2. Parto dalla prima e vado a scrivere che 10 è uguale a 530 meno 10 per 52 e 2 è uguale a 52 meno 5 per 10. Ora questo 10 qui lo devo andare a sostituire con la scrittura equivalente che vado a determinare dalla prima identità e quindi al posto di questo 10 andrò a scrivere 530 meno 10 per 52. Questo 10 qui corrisponde a questo 10 qui e allora vado a scrivere 2 è uguale a 52 meno 5 per, apro la tonda e al posto di questo 10 scrivo questo e quindi scrivo 530 meno 10 per 52. I numeri che devo tenere a mente sono 530, 52 e 2. Quindi questo 2 lo vado a ricopiare e scrivo 2 uguale 52 meno 5 per 530 più 50 e quindi scrivo 50 per 52. Adesso vedo quanti 52 ho, qui ne ho 1, qui ne ho 50 e allora avrò 2 uguale 51 per 52 e poi vediamo quanti 530 ho. Ne ho meno 5, cioè questi qui e allora vado a scrivere meno 5 per 530. Allora i numeri che verificano l'identità di Besou sono 51 e meno 5. Vediamo quest'altro esempio, allora devo andare a determinare i numeri che verificano l'identità di Besou e devo andare a calcolare il massimo comundivisore tra 860 e 720. Determino il massimo comundivisore tra 860 e 720 utilizzando l'algoritmo di Euclide e quindi vado a fare 860 diviso 720 ed ottengo quoziente 1 e il resto 140, poi 720 diviso 140, ottengo quoziente 5 e il resto 20, poi 140 diviso 20 ed ottengo quoziente 7 e il resto 0. Avendo ottenuto qui 0, questo significa che 20 sarà il massimo comundivisore tra 860 e 720. Adesso riscrivo queste tre divisioni in riga, elimino l'ultima riga dove il resto vale 0 e qui e qui esplicito i due resti, cioè 140 e 20. Adesso effetto una sostituzione, al posto di questo 140 devo andare a scrivere 860 per 20, quindi vado a sostituire questo 140 con la sua scrittura equivalente e quindi ottengo 20 uguale 720 meno 5 per, e al posto di questo 140 vado a scrivere 860 meno 1 per 720 che è uguale a scrivere 20 uguale 720 meno 5 per 860 poi meno per meno fa più 5 per 720. I numeri che devo tenere in considerazione sono 860, 720 e 20. vedo qui adesso quanti 720 ho. Qui ne ho 1, qui ne ho 5 e allora vuol dire che ho 6 720, ossia 20 è uguale a scrivere 6 per 720. Adesso vediamo quanti 860 ho. Di 860 ne ho meno 5 e quindi vado a scrivere meno 5 per 860. Allora i numeri che verificano l'identità di Besou sono 6 e meno 5. Provare per credere che se vado a fare 6 per 720 meno 5 per 860 ottengo proprio 20. Vediamo quest'altro esempio. Devo determinare i numeri che verificano l'identità di Besou con 112 e 106. Allora vado a determinare prima di tutto il massimo comune divisore tra 112 e 106. A questo punto per determinare il massimo comune divisore utilizzo l'algoritmo di Euclide e vado a fare 112 diviso 106 ed ottengo quoziente 17 e il resto 4. Poi faccio 6 diviso 4 ed ottengo quoziente 1 e il resto 2 e poi 4 diviso 2 ottengo quoziente 2 e il resto 0. Avendo ottenuto qui 0 significa che 2 è il massimo comune divisore tra 112 e 106. A questo punto riscrivo queste divisioni in riga. Elimino ora l'ultima riga dove il resto vale 0 e da queste uguaglianze vado a esplicitare i resti che sono 6, 4 e 2. Inizio ora a effettuare le sostituzioni. Al posto di questo 6 vado a sostituire 112 meno 1 per 106. Abbiamo la scrittura equivalente e quindi ottengo 106 meno 17 per, abbiamo detto che al posto di questo 6 che corrisponde a questo 6 vado a mettere questa quantità e quindi meno 17, apro la tonda, 112 meno 1 per 106 ed ottengo 106 meno 17 per 106. Vediamo quanti 106 ho. Qui ne ho 1, qui ne ho 17 e quindi in totale ho 18 per 106 e quindi scrivo meno 17 per 112. Effettuiamo ora le sostituzioni nell'ultima identità. Al posto di questo 6 vado a scrivere 112 meno 1 per 106 e al posto di questo 4 vado a scrivere questo qui. Ottengo questa scrittura e ricordo che questa quantità è stata sostituita al posto di 6 mentre quest'altra quantità è stata sostituita al posto di 4. Adesso devo fare questa moltiplicazione per meno 1. Vediamo ora cosa posso sommare ricordando che i numeri in gioco sono 112 e 106. Allora qui ho un 112, qui ne ho 17, quindi in totale ho 18, 112 quindi 18 per 112. Poi ho meno 1 per 106 meno 18 per 106 quindi in totale meno 1 meno 18 ho meno 19 per 106 e questa quantità è uguale a 2. Ora posso scrivere l'identità di Besù e quindi ripartendo da questa catena di uguaglianze posso andare a scrivere l'identità di Besù e scrivere che 2 è uguale a 18 per 112 meno 19 per 106. Allora i numeri che verificano l'identità di Besù sono 18 e meno 19. Vediamo quest'ultimo esempio. Allora voglio determinare i numeri che verificano l'identità di Besù con 83 e 35. Vado a determinare il massimo comundivisore utilizzando l'algoritmo di Euclide. Ho svolto tutte le varie divisioni e alla fine mi fermo qui dove il resto vale 0. Questo significa che 1 sarà il massimo comundivisore di 83 e 35. Adesso vado a riscrivere queste divisioni, questo è inutile che le vado a riscrivere, in linea. Esplicito ora da queste uguaglianze tutti i resti, cioè 13, 9, 4 e 1. Inizio ora a effettuare le sostituzioni. Al posto di questo 13, cioè che questo qui, vado a sostituire 83 meno 2 per 35. Quindi al posto di questo 13 metto 83 meno 2 per 35 e poi raggruppo i termini in questione. I termini in questione sono 83 e 35. Quindi al posto di questo 13 vado a scrivere 83 meno 2 per 35. Sviluppo questa moltiplicazione e poi raggruppo i 35. Qui ne ho 1, qui ne ho 4 e quindi ho 5 volte 35 e poi meno 2 per 83 che ho ricopiato. Adesso vado a sostituire al posto di questo 13 questa quantità 83 meno 2 per 35 e al posto di questo 9 vado a scrivere 5 per 35 meno 2 per 83 ed ottengo 3 per 83 meno 7 per 35. Ora devo svolgere l'ultima identità. Al posto di questo 9 vado a scrivere 5 per 35 meno 2 per 83. Al posto di questo 4 vado a scrivere 3 per 83 meno 7 per 35. Adesso devo svolgere questi calcoli e poi raggruppare i termini in 83 e 35. Raggruppando i 35 ne ho qui 5, qui ne ho 14 e quindi ne ho 19. Raggruppando gli 83 ne ho qui meno 2 e qui meno 6 e quindi ne ho meno 8. Ho ricopiato questo 1 da questa catena di uguaglianze e quindi ottengo che 1 è uguale a 19 per 35 meno 8 per 83. 19 e meno 8 sono i due numeri interi che verificano l'identità di Besou e con questo termino il tutorial sull'identità di Besou.